E' una sorpresa di cosa mangiamo oggi a pranzo La buona polentona, polenta ai formaggi Ecco, abbiamo tre scelte di questi tipi di polenta Polenta ai formaggi, polenta con funghi porcini e polenta ai 5 cereali Allora, cosa possiamo fare? Cosa proviamo oggi? Cosa vuoi? E' un'altra che vedete la polenta ai formaggi Allora, ok Allora, faremo oggi una bella polenta balsugana Espres La tua ai formaggi Descrizione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti